Nella mattina di ieri, i carabinieri della Compagnia di Paternò hanno proceduto alla cattura di Salvatore Alex Atanasio, classe 1992, che si era reso irreperibile ai militari nel corso dell'operazione assalto del 28 agosto scorso nei confronti degli appartenenti al gruppo assinnata, ritenuti responsabili dei delitti di associazione di tipo mafioso, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e estorsione. L'uomo è stato rintracciato in un'abitazione di un congiunto ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania Bicocca.